non lo so se ci sia una spiegazione logica perché come ho detto ai miei da un po di tempo oppure ai miei intesi come gente che abitualmente ci viene a vedere penso che tra tutti gli addetti ai lavori che lavoriamo pensino avremmo risolto se ci fosse un problema invece si crea una situazione un po' anomala che non mi è mai capitato noi l'anno scorso ad Arezzo io con i miei giocatori ad Arezzo abbiamo fatto un record di imbatibilità in casa quest'anno invece in casa non mi riesce di vengerne una è un po' strano perché la squadra comunque fornisce buone prestazioni anzi forse in casa le facciamo migliori che fuori però non riusciamo a ottimizzare quello che produciamo è un difetto perché alla lunga di là delle buone prestazioni rimane il risultato dobbiamo essere più bravi a cogliere l'episodio in modo favorevole rispetto quando rispetto quello che facciamo fuori casa che invece succede con puntualità ecco un caso sia uno che l'altro dal mio punto di vista è un caso come sono distribuiti c'è un disequilibrio tra casa e fuori casa che non si vede quasi mai su una squadra che lotta per posizioni di vertice si vede su squadre che notano per non retrocede tentiamo di come ho detto la settimana scorsa non di modificarlo perché sennò le perdiamo tutte fuori ma di equilibrare la cosa sì perché abbiamo bisogno comunque in casa di fare una marcia diversa e come commenti invece la partita di oggi? La partita di oggi è stata una partita equilibrata siamo partiti meglio noi i primi 25 minuti poi Alessandro è venuta fuori ha spinto parecchio ha taggato con tanti giocatori ci ha creato diversi problemi poi tutte le partite vivono di episodi dopo l'1 a 1 secondo me siamo stati bravi a rimanere in partita in un momento in cui forse loro hanno avuto il picco della spinta e il 2 a 1 paradossalmente ha smorzato un po gli equilibri però penso che la partita non ci sia stato un migliore un peggiore penso sia stato in equilibrio per tutto il tempo della gara ma Tommaso l'ho detto ieri conferenza è un titolare di questa squadra qua è successo che in un momento dove ha avuto un problemino fisico la squadra mi sembrava bene assestato in mezzo al campo e ha morso il freno per un paio di partite però io in questo gruppo qua ho la fortuna di allenare dei giocatori molto simili a livello di qualità non abbiamo dal mio punto di vista dei picchi strabilianti né in un senso né nell'altro però io ho la facoltà perché la società me l'ha messa a disposizione che quando cambio come mercoledì 11 giocatori dal campionato la coppa più o meno la squadra produce sempre qualcosa di buono che dopo vinca o perde le partite è un altro paio di mani però la squadra sta sempre centrata è stata una vittoria importantissima che ci dà grande fiducia anche perché loro sono una squadra molto forte era un campo difficile ma sono riusciti a portare la casa sì mi trovo sempre su uno contro uno diciamo che bisognava saper reggere il confronto e questi duelli comunque ci hanno fatto vincere la partita questo è stato al minuto sì per un terzino è fondamentale comunque saper abbinare la corsa anche buona tattica quindi specialmente per i terzini è importante correre ha molta importanza anche perché abbiamo guadagnato abbiamo scalato posizioni in classifica vedendo altre che hanno pareggiato anche perché siamo tutte le attaccate era importante vincere per cercare di distanziarsi un po dalle altre che ci stanno sotto non sappiamo si 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 esatto un po inspiegabile anche perché comunque i dati dicono che produciamo bene anche in casa tiriamo molte volte in porta siamo sempre nella metà campo avversaria ed è strano come non riusciamo in casa ad avere lo stesso curriculum fuori casa non ce lo sappiamo spiegare no è andato molto bene siamo riusciti a coprirci molto bene anche grazie all'aiuto dei centrocampisti che non c'erano ci hanno dato una gran mano e comunque che si giochi sia a 3 a 5 o a 4 riusciamo adattarci molto bene